L'elemento principale che abbiamo avuto come back office internazionale, grazie alla dematerializzazione dei documenti, è rappresentato dalla creazione di un fascicolo elettronico, quindi un fascicolo che non si basa sull'archiviazione fisica del documento, ma che anzi rende quei dati vivi, quindi grazie al documento dematerializzato noi possiamo creare un faldone che concretamente non esiste, quindi andiamo ad aggregare i dati dei fascicoli, delle corrispondenti piuttosto che dei servizi che andiamo a offrire sull'estero e creiamo delle cartelle virtuali personalizzate sulle esigenze del singolo collega che lavora alla sua postazione o del collega che si trova in mobilità al di fuori del posto di lavoro. Questo è il vantaggio principale che il back office internazionale in Banca Popolare di Sondrio ha potuto ricavare dall'esperienza di dematerializzazione, chiaramente ci saranno altri filoni di intervento in futuro e ci auguriamo di andare a realizzare efficienze anche in altri ambiti.